Buon lunedì 18 gennaio. Gesù apparentemente opera strappi nei confronti della tradizione mentre i discepoli di Giovanni e i farisei digiunano come prescrive la regola, la legge. I suoi discepoli non digiunano e di fronte alla domanda della ragione per cui non avviene questo adeguamento alla tradizione, alle regole. Gesù invita al cambiamento radicale, al mutare abito, al non rattoppare con stoffe gli abiti strappati perché si farebbe peggio. È un invito che svela il suo essere portatore di un nuovo messaggio di salvezza che anche di fronte al peccato degli uomini, di fronte ai loro errori, chiama tutti, anche i peccatori, anche i devianti, ridossare un abito nuovo, ma anche a coloro i quali sono ligi alle regole, sono rigidi al rispetto della legge, che ritengono di essere coloro i quali vivono nell'ortodossia religiosa. A tutti costoro Gesù si pone come colui il quale apre un cammino di conversione che guarda verso la priorità dell'umano, anche quello da rattoppare, soprattutto attraverso l'esempio del peccatore che va amato prima di tutto e invitato a indossare l'abito nuovo della salvezza. Ma anche coloro che ritengono di essere assolutamente nel giusto sono richiamati al cambiamento radicale, anche loro, a non fare piccoli emendamenti alla loro esistenza, ma a rinnovarla in modo radicale, per quanto piccolo possa essere lo strappo nel loro vestito. È una grande dimostrazione di messaggio di conversione che è rivolto a ciascuno di noi. Buona giornata a tutti.